Le ho tre punti che pesano tanto, tre punti presi con le unghie e con i denti, tre punti presi anche con il cuore questa sera. Sì, siamo contenti che abbiamo ribaltato la partita, non era facile perché la Viterbese è una buona squadra, in salute era, gli servivano punti, però noi siamo andati più forti con la voglia di ribaltarla e siamo veramente contenti di aver raggiunto questo risultato. Siete anche un po' adattati al canovaccio della partita perché oggi c'era da sudare, da correre, da combattere su ogni pallone. Sì, sì, era una partita sporca, anche se al comunale qui a Chiaveri se ne vedono poche perché comunque c'è la possibilità di giocare la palla, però era la partita che dovevamo fare, proprio con la voglia di andare a prendere il risultato e quello era l'obiettivo e ce l'abbiamo fatto. Sono sette le vittorie consecutive in casa. Sì, sì, sta diventando un fortino, l'abbiamo reso un fortino questo campo ed è giusto così, i padroni di casa devono rendere il campo di casa un fortino, quindi siamo contenti. Doppio giallo è l'unica nota stonata di questa serata? Sì, il primo giallo l'ho preso, c'era sinceramente, il secondo ho preso la palla, l'arbitro ha valutato così, però non importa. Sono comunque contento della prestazione mia e di tutta la squadra e il risultato prima di tutto, sono contento per quello.